Quanto mi piacciono le zucchine, soprattutto se sono buone come i miei fagottini di zucchine con un ripieno goloso e filante. Corriamo in cucina e prepariamoli insieme. Lava le zucchine, spuntale alle estremità e taglia le fettine molto sottili con l'aiuto di un bella patate. Sistema 4 fettine sul piano di lavoro, incrociandole tra di loro. Sistema accendo una fettina di prosciutto cotto, una di formaggio e richiudi a formare un fagottino incrociando le fettine tra di loro. Prepararle tutte allo stesso modo, sin a terminare le zucchine. Sbatti in una ciotola un uovo con una presa di sale. Passa ove i fagottini di zucchine prima nell'uovo e poi nel pangrattato, facendola aderire per bene da tutte le parti. Sistema le man mano che le prepari su una teglia foderata con gatta da forno, un filo d'olio in superficie e lascia le cuocere in forno. Ecco le pronte, golose, filanti, corri in cucina a prepararle anche tu.